Tacchino e patate in umido? Per come vi prepara mia socia il suo cavallo di battaglia che oggi voglio offrire anche a voi La ricetta è semplicissima ma seguitemi in cucina per vedere come si prepara Ho iniziato preparando tutti gli ingredienti Bisogna pulire le patate e tagliarle a cubetti piccolini che poi andranno fritti Poi bisogna occuparsi delle verdurine per il soffritto Io ho scelto una carota di media grandezza, una grossa cipolla bianca ma potete utilizzare anche una cipolla dorata o le cipolle rosse se le avete E tre o quattro pomodorini Bisogna tagliarli grossolanamente, non serve essere troppo precisi perché poi questi andranno mixati con un tritatutto Adesso basta solo frullare con questo tritatutto e il grosso del lavoro è fatto Poi dobbiamo solo infarinare le fettine di tacchino Le fettine di tacchino se sono tagliate sottilmente è meglio, sono molto più tenere Potete scegliere qualunque tipo di farina, partire dalla farina di riso finissima Ma se avete anche dei mix in casa, mix per pane, per pizza, li potete utilizzare Vanno benissimo Una volta che le abbiamo infarinato ci spostiamo sui fornelli e iniziamo friggendo le patate Proprio devono essere le classiche patatine fritte Le friggiamo, quando sono ben croccanti le mettiamo da parte Poi ci occupiamo delle fettine di carne Versiamo dell'olio d'oliva in una casseruola abbastanza larga che poi possa contenere tutte le fettine Le facciamo rosolare un minuto per lato salando e pepando ogni lato di queste fettine Facciamo così con tutte le fettine Poi quando abbiamo finito ne mettiamo da parte nessun piatto nell'attesa Fatto questo lavoro, rosoliamo le verdurine che avevamo frullato Devono insaporirsi per bene, non devono friggere ma devono insaporirsi Ci vorranno dai 15 ai 20 minuti Devono essere ben tenere Trascorso questo tempo sfumiamo con del vino bianco Io ho messo mezza tazzina di... una tazzina da caffè in realtà di vino bianco Mescoliamo e lasciamo cuocere a fiamma dolce Magari chiudendo con un coperchio Se vediamo che il liquido si restringe troppo possiamo aggiungere dell'acqua Quando queste verdurine, questo soffritto risulta ben tenero adagiamo le fettine di carne nella casseruola Chiudiamo con un coperchio e lasciamo cuocere per pochi minuti La carne si cuoce molto rapidamente perché è sottile Quindi 5 minuti circa dovrebbero bastare Noi chiudiamo con un coperchio Poi le capovolgiamo dall'altro lato così tutta la carne si insaporisce per bene Aspettiamo qualche minutino E infine aggiungiamo le patatine che avevamo fritto Le uniamo, mescoliamo bene così la carne e le patate si insaporiscono allo stesso modo Chiudiamo con un coperchio e lasciamo insaporire a fiamma dolcissima per altri 5 minuti Mi raccomando assolvegliare che il liquido della carne e comunque del condimento non si sia troppo asciugato Casomai versiamo mezza tazzina di caffè e di acqua Una volta che la carne è cotta spegniamo e lasciamo riposare così anche per 10-15 minuti E poi la gustiamo, è buonissima, è buonissima calda, è buonissima tiepida, è buonissima fredda La potete preparare il giorno prima Si mantiene perfettamente in frigorifero fino all'indomani E vale veramente la pena perché è deliziosa, semplice ma deliziosa Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche Grazie alla prossima ricetta, ciao!